Clementino, nome d'arte di Clemente Maccaro, è una forza da non sottovalutare nel panorama hip hop italiano. Con la sua presenza magnetica e il talento innato, ha saputo conquistare il cuore di molti. Originario della vivace Campania, le sue liriche sono un'affascinante miscela di critica sociale, giochi di parole arguti ed emozioni crude. Ogni parola è scelta con cura, ogni verso è un viaggio attraverso le sue esperienze e le sue riflessioni. La sua ascesa alla fama è stata a dir poco fulminea, conquistando il pubblico con le sue performance energiche e i versi che invitano alla riflessione. Ogni concerto è un'esplosione di energia, un momento di connessione profonda con i suoi fan. Ma dietro la carismatica figura sul palco, si cela un uomo che mette la famiglia sopra ogni altra cosa. La sua famiglia è il suo fuggio, la sua fonte di forza e ispirazione. Il percorso di Clementino è stato segnato sia da trionfi che da tribolazioni. Ogni successo è stato guadagnato con duro lavoro e dedizione e ogni difficoltà ha contribuito a rafforzare il suo carattere. In tutto questo la sua famiglia è rimasta la sua costante, una fonte di amore e sostegno incrollabili. Non importa quanto lontano lo porti la sua carriera, la famiglia è sempre al centro della sua vita. La loro presenza nella sua vita lo ha plasmato nell'uomo che è oggi, ricordandogli l'importanza delle radici anche mentre punta alle stelle. Ogni passo che fa è un tributo alla sua famiglia e alle sue origini, un viaggio che continua a ispirare e a emozionare. Nel mondo dello spettacolo le storie d'amore spesso si svolgono sotto i riflettori. Clementino, nonostante la sua natura riservata, ha trovato l'amore con la bellissima Martina di Fonte. La loro relazione, sebbene mantenuta in gran parte privata, era una testimonianza del loro profondo legame. Sembravano fatti l'uno per l'altra, due anime che affrontavano insieme le complessità della vita. Tuttavia il destino, come spesso accade, aveva altri piani. Nel 2023 la notizia della loro separazione ha scosso il mondo dello spettacolo. Il motivo della loro rottura rimane avvolto nella privacy, a dimostrazione del rispetto di Clementino e Martina per il loro passato comune. Nonostante il dolore, Clementino ha gestito la situazione con grazia e dignità, ritirandosi dalla vita pubblica per guarire e ricostruire. La fine di una relazione, soprattutto una profonda come quella di Clementino con Martina, può lasciare una sensazione di smarrimento e solitudine. È in questi momenti di tumulto emotivo che l'abbraccio della famiglia diventa fondamentale. Clementino, noto per i suoi stretti legami familiari, si è rivolto ai suoi cari per trovare conforto e sostegno. I suoi genitori, i suoi fratelli e la sua famiglia allargata si sono stretti attorno a lui, offrendogli un porto sicuro dove poter elaborare le proprie emozioni senza essere giudicato. Il loro amore incondizionato gli ha ricordato che non era solo, che anche nei momenti più bui c'è sempre un barlume di speranza. Tra le più grandi fonti di forza di Clementino ci sono i suoi fratelli Paolo e Millie. La loro presenza costante e il loro amore incondizionato sono pilastri fondamentali nella sua vita. Io e mio fratello Clementino condividiamo un legame che va oltre la fratellanza. È un legame che si è rafforzato nel tempo attraverso le sfide e le gioie che abbiamo condiviso. È un'amicizia forgiata nel rispetto e nella comprensione reciproca. Ogni momento passato insieme ci ha avvicinato sempre di più, creando una connessione indissolubile. Paolo, suo fratello, è una presenza costante nella sua vita, un confidente che lo capisce come nessun altro. La loro relazione è un esempio di come l'amore fraterno possa essere una fonte di forza e ispirazione. Condividono un legame che va oltre la fratellanza. È un'amicizia forgiata nel rispetto e nella comprensione reciproca. Ogni risata, ogni momento di supporto rafforza il loro legame. Clementino non è solo mio fratello, è la mia roccia. La sua forza mi ispira ogni giorno e il nostro legame è qualcosa di veramente speciale. Le mie risate, il mio sostegno incrollabile, è tutto per lui. Ogni momento passato insieme è un tesoro che custodisco nel mio cuore. Millie, la sorella di Clementino, è un faro di amore e positività. La sua presenza illumina la vita di Clementino, portando gioia e speranza. Le sue risate contagiose e il suo sostegno incrollabile hanno aiutato Clementino ad affrontare alcune delle sue sfide più difficili. Insieme hanno superato ostacoli che sembravano insormontabili. Insieme, Paolo e Millie formano un cerchio d'amore indissolubile attorno a Clementino, ricordandogli l'importanza della famiglia. La loro unione è una testimonianza del potere dell'amore fraterno e della forza che deriva dall'essere una famiglia unita. Blocco 5. Una spalla su cui piangere. Il ruolo della famiglia nella ripresa di Clementino. La famiglia è stata il pilastro su cui Clementino ha potuto contare nei momenti più bui. Il cammino della vita raramente è lineare e quello di Clementino non fa eccezione. Ogni passo che ha fatto è stato accompagnato da sfide e ostacoli, ma anche da momenti di riflessione e crescita personale. In passato ho parlato apertamente della mia dipendenza dalla droga, un periodo buio della mia vita che ha messo a dura prova la mia capacità di recupero. Ho affrontato momenti di disperazione e solitudine, ma non ero mai veramente solo. È stato durante questi momenti difficili che l'amore e il sostegno incrollabili della sua famiglia hanno brillato. La loro presenza costante ha fornito un'ancora di salvezza, un faro di speranza in un mare di incertezze. Mi sono stati vicini, offrendomi amore e incoraggiamento incondizionati, mentre lottavo per superare i miei demoni. Ogni abbraccio, ogni parola di conforto, ogni gesto di gentilezza mi ha dato la forza di continuare. La fiducia che la sua famiglia ha riposto in lui gli ha dato la forza di chiedere aiuto e di intraprendere il lungo e arduo percorso della guarigione. Ogni passo avanti è stato un testamento del loro amore e della loro dedizione. Il loro sostegno incrollabile è stato fondamentale nel mio ritorno alla salute e al benessere. Senza di loro non sarei qui oggi a raccontare la mia storia di rinascita e speranza. La musica per me è sempre stata molto più di una semplice professione. È la mia terapia, il mio sfogo, il mio modo di connettermi con il mondo. Attraverso i miei testi apro il mio cuore, condividendo le mie esperienze, le mie vulnerabilità e i miei trionfi. La mia musica è il riflesso del mio percorso, una testimonianza della mia resilienza e del potere trasformativo dell'arte. Ma anche quando metto l'anima nella mia musica, non dimentico mai l'importanza della famiglia. Sono la mia ancora, il mio porto sicuro, coloro che mi tengono con i piedi per terra nel vortice della mia carriera. Il loro amore e il loro sostegno mi danno la forza di essere vulnerabile, di condividere la mia storia e di ispirare gli altri attraverso la mia musica. Clementino va avanti con un rinnovato senso di scopo, abbracciando la vita a braccia aperte. Si sta concentrando sulle sue passioni, sulla sua musica e, soprattutto, sulla sua famiglia. Le lezioni apprese dalle sue esperienze passate lo hanno plasmato in un individuo più forte e resiliente. Non ha più paura di essere vulnerabile, di condividere la sua storia e di usare la sua piattaforma per sostenere chi sta affrontando sfide simili. La storia di Clementino ci ricorda che anche di fronte alle avversità, la speranza, l'amore e il sostegno incrollabile della famiglia possono aiutarci a superare gli ostacoli più grandi della vita. Il percorso di Clementino, dalla sua ascesa alla fama alle sue lotte e ai suoi trionfi personali, evidenzia l'importanza fondamentale della famiglia nelle nostre vite. Sono loro che ci stanno accanto nella buona e nella cattiva sorte, offrendoci amore e sostegno incondizionati quando ne abbiamo più bisogno. La sua storia è un toccante promemoria del fatto che non siamo soli nelle nostre lotte. Non importa quanto possano sembrare bui i tempi, l'amore e il sostegno delle nostre famiglie possono essere un faro di speranza, guidandoci verso un futuro più luminoso. La storia di Clementino risuona profondamente perché parla del potere universale della famiglia. Ora voglio sentire la vostra. Condividete i vostri pensieri sull'importanza del sostegno della famiglia nei momenti difficili. Avete mai sperimentato l'amore incrollabile della famiglia durante un periodo?